Sarà inaugurata domani Opere nel Tempo, la mostra del maestro Salvatore Fratantonio, un evento espositivo che si rivela un modo per conoscere nel profondo l'artista modicano e il suo percorso, fatto di viaggi verso Milano e Roma, luoghi che hanno fortemente influenzato la pittura di Fratantonio, avendo però sempre nel cuore l'amata Sicilia, in particolare Marina di Modica, terra mediterranea e musa ispiratrice per l'artista Fratantonio. Da sempre innamorato dei panorami siciliani, i protagonisti indiscussi delle tele di Fratantonio sono le albera refatte, gli alberi di Carrubbo e il mare, immagini suggestive che permettono al visitatore di calarsi facilmente nella poetica figurativa che ha interessato ben 50 anni di lavoro. L'inaugurazione della mostra è dunque prevista per domani alle 19 nella Galleria d'Arte Il Capitello a Sant'Agata di Militello.